buona domenica e salve a tutti agli amici di news formula 1 è finito da poco il gran premio di singapore una gara che doveva essere dominata dalle mercedes fino praticamente a giovedì pomeriggio questo era il pensiero generale e invece già da ieri era cambiato tutto con la pole di leclerc e oggi ancora una volta la ferrari ci ha smentito con sebastian fettel che ha ottenuto la vittoria davanti alle clerche si tratta della prima doppietta ferrari sin dal gran premio di ungheria del 2017 quindi dopo oltre due anni e due mesi il cavallino è tornato ad ottenere un 1 2 pesantissima la vittoria del tedesco che invece non vinceva da spa dell'anno scorso quindi anche per lui termina un digiuno mentre sempre guardando le statistiche la ferrari non otteneva tre vittorie di fila addirittura dal 2008 quindi si sfatano molti tabù oggi nella nella notte di singapore una gara pazzesca che ha visto vincere appunto il tedesco che ha superato leclerc nel giro delle soste ai box con una strategia che sicuramente il per il monegasco non ha digerito perché è stato fatto rientrare prima di lui fettel mentre sapendo le gerarchie delle squadre notoriamente chi è davanti si ferma e invece quindi il tentativo di attaccare emilton fettel ha anticipato la sosta di entrambi e si è ritrovato così magicamente leader del gran premio di singapore conducendolo fino alla fine un disastro possiamo dire invece la strategia della mercedes con emilton che ha tentato di rimanere più a lungo in pista nel primo stint ma un crollo delle gomme soft lo ha costretto addirittura a rientrare in pista dietro sia le ferrari che alla red bull di verstappen concludendo la gara al quarto posto ma comunque guadagnando ancora dei punti su bottas con un mondiale che è sempre più in cassaforte con la ferrari che vede leclerc salire al terzo posto del mondiale piloti ma sempre a 96 punti da emilton dunque da quel punto di vista sembra esserci poco da fare però veramente un gran lavoro del cavallino che su una pista sulla carta totalmente sfavorevole ha invece dominato perché anche in gara nessuno è stato mai in grado di attaccare le rosse un come abbiamo detto verstappen ha completato il podio davanti a emilton poi bottas ed un positivo albon che ha fatto il suo collatra red bull molto molto bene giovinazzi lo abbiamo visto anche per diversi giri al comando della gara che ha chiuso al decimo posto nonostante una strategia non proprio azzeccatissima del suo team concludendo per la seconda volta consecutiva nella zona punti dunque veramente bene il nostro il nostro antonio giovinazzi con l'alfa romeo mentre raikon si è ritirato dopo un contatto con kiat per il momento possiamo dire che è tutto per quanto riguarda il gran premio di singapore si torna in pista subito perché domenica prossima ci sarà l'appuntamento con il gran premio di russia e vedremo se lì la ferrari continuerà la sua striscia positiva tre pole e tre vittorie consecutive su piste molto diverse tra di loro e vedremo lì dove il motore tornerà a fare una grande a fare una grande differenza perché ci sono dei lunghi rettilinei se il cavallino si confermerà davanti un saluto a tutti da news formula 1 e ci sentiamo appunto tra una settimana per il gran premio di russia a soci